Ciao bellissimi, come state? Me sentite? Siamo tornati sui dei dei e subito vi chiedo un like, l'iscrizione e la campanella perché Crax è di parola, guardate che vi combino Ma io rimango così finché non lasciate il like, dovete lasciare like, voi community dei dei che mi supportate, like E anche il codice Crax, giusto, nello shop, scada una volta ogni 7 giorni So che l'avete lasciato, quindi vado a prendere subito le apette e vado instant sul granaglio Vi serve qualche materiale di espansione? Tac, 8 e 25 Qualche altro materiale? Tac, 8 e 25 This is Crax, via, c'hai speciali Crax, ristartiamo subito tutto quanto Oggi facciamo un bel episodio tattico dove facciamo la nostra rotazione, la contrata già l'ho fatta eccetera Ma vi dico già che nel prossimo episodio, tenetevi pronti perché ho fatto il platino, vabbè ho fatto il platino, potevo fare il carbone e il ferro Nel prossimo episodio guardate le gemme, si andrà a gemmare e probabilmente gemmerò pure la fonderia Che sta per arrivare alla terza stella, quindi tutto si boosterà del 15%, doppio slot, doppio lingotto, easy peasy In questo modo non si ferma più, cioè fidatevi dei Crax che fa le cose veramente al top Sapete regà che sui giochi farming è il mio mondo, esprimo il 100% di me stesso Sentite ragazzi che affermazioni importanti dei Crax Intanto io prendo i minerali perché ho svolato tutto quanto il granaglio 580 Mi sa che non posso prendere tutte le fragoline però ci provo, infatti immaginavo Ripianto subito 8 ore, siamo a posto I fondamentali li ho tutti, ho tutte quante le culture precise per andare What? Cioè io ho il dito da un'altra parte e la falce è totalmente in un'altra zona Si è buggato ma voi non potevate vedere Siamo a 8 e 10, ripianto le fragoline Vado a vendere subito l'eccesso così magari mi aiutano per la barca Non so se mi hanno aiutato, non l'ho aperta, magari la chiudiamo subito Devo fare la missione del derby delle barche E oltre a questo c'è pure l'evento globale della pesca Quindi oggi grossa battuta di pesca Intanto creo l'annuncio, vediamo se mi hanno aiutato sì Quindi 1, 2, 3 E un saluto alla barca, ciao bella I video dei cracks sono la precisione Su Eday cerco di essere il più preciso possibile Cerchiamo di ristartare sempre tutto Cerchiamo di fare sempre tutto al millimetro E lo faccio perché mi supportate tanto No in realtà lo faccio ragazzi perché se ho fatto così non riesco a comportarmi diversamente Se non faccio le cose tutte precise appunto mi sento male Fragoline rimesse tutte quante Ci abbiamo gli animali, un attimo giretto di ruota Dammi jackpot, dammi gli sordi che mi servono perché oggi andremo pure a fare No ma che è il recinto Mannaggia era jackpot da 3.700 Stavo dicendo, dato che per il livello 53 non abbiamo nulla da posizionare Bono quel bracciale E quindi non ci richiederà grosse somme di denaro da spendere Credo che sia arrivato il momento giusto per andare a spendere sulla pesca È arrivato il momento delle anatroccoli Degli anatroccoli Sì, se va potentissimi Stavo a dire delle papero, mixato, anatro Vabbè insomma avete capito Ristarto subito Erman G me ne manca un pochino per ristartare poi le pecore Prendiamo tutta la pancetta Senza problemi di spazio guardate che spettacolo Posso prendere tutto senza dover mettere un po' di mangime Un po' di cose Invece con le colture mi tocca sempre fare un po' e un po' Aspettate perché manca un maiale Rimane 3? No, infatti immaginavo di solito rimane sempre 2 Qua posso prendere tutto In realtà non ho ancora preso il mangime Ecco perché mi mancava del mangime Per quanto riguarda i ristart Prendendo tutto Le pecorelle stanno a posto I maiali stanno a posto pure con l'eccesso Posso subito infornare Piantare come dicevo le caprette Me ne rimane 12 Quindi pure per la seconda infornata Let's go, di gallinelle Ci pigliamo Gli ovetti Guardate quanto sono carini Certo le gallinelle ragazzi Sub con il boccaio Sono belle Ma perché ve ne andate skin? Come si fanno a comprare? Scrivo alla supercell A quelli dei dettagli Dico se mi lasciano le skin Che sono fantastiche queste Bella per le mucchette Ci prendiamo anche il latte Perché il latte è fondamentale Per i ristarti Tutta quanta la produzione E anche il caseficio Tutto ristartato Mi sembra di sì Zero per le galline Quindi uno, due, tre È una routine costante Per due di mucchetta Ho praticamente tutto Quindi potrei fare Un altro giro dovetti E qualche altra mucchetta Una roba del genere Ma assolutamente sì Lo facciamo Perché no? Altra mucchetta per noi Tanto il resto ci mette E ho messo un maiale E infatti ho messo i maiali Tutti e due Vabbè almeno Sono simmetrici Poteva andare peggio Farla simmetrico sarebbe stato Molto molto peggio I casefici ho preso 8, 8, 5, 18 Meraviglioso Quindi carica forte così Crax Tanto del latte Ne abbiamo Veramente uno sproposito Per quanto riguarda il miele Ne ho 7 E ho 8 di ceratapi Perché ho utilizzato DOM Faccio un bel per tre de miele Senza problemi Mi hanno comprato due fragoline Ho l'annuncio E quasi quasi Vado a prendere subito Buona la soia Let's go Sempre meglio averle in eccesso Vai con il grano Perché di sicuro Non ho consumato un botto Mi servirebbero pure le pannocchie Se riesco a trovarle Buoni quei chiodini Ciao Sono arrivato un po' in ritardo Vabbè Poi dopo ci ripasso Un po' di grano l'ho preso Grazie mille per l'argento Vado subito a richiedere Altro argento Perché mi sa che non ne ho tantissimo Infatti ne ho solamente 6 Con 5 Ci stiamo bene Posso andare a richiedere Qualcos'altro che mi manca Tipo il miele Oppure anche le cotine Dalla costa Però è vero che ne prenderemo Altre due Ma si dai regà Andiamo dei cotine Una richiesta un po' particolare Tutta quanta la produzione Prendiamo tutto quanto Andiamo sulla city Perché abbiamo grosse novità Per la city Dopodiché ristattiamo la produzione Successivamente Per vedere quello che abbiamo consumato Eccetera Tanto il granaglio può contenere Tranquillamente tutto Bello quel telaio Buoni quei fiorellini Tipo quali posso ristattare Tanto regà Sono sempre quelli Non te sbagli Ci portiamo avanti Bene Ho preso tutto Vediamo chi mi ha giunto Ricordo accetto Livello 50 O superiore Ma arriverà anche il giorno In cui ripulirò tutti Rifarò posto Ma adesso c'è sta posto Non è un problema Grazie mille per le scioppate Andando sulla city Belli miei È quel momento lì Dobbiamo spacchettare tutto Ve l'ho detto Che quando Grax fa una cosa O la fa al top O non la fa Nuovo livello limite Probabilmente nel prossimo episodio Arriveriamo al 53 Beh un bel po' di esperienza Se mi concentro Forse ce la faccio Ma Non è semplice Unboxing 1 Unboxing 2 Unboxing 3 Ci abbiamo Tutto Certo Tutto messo malissimo Perché mi tocca allargare Pure sta situazione Questo non riesco a girare Magari lo mettiamo Mazza rega quanto è brutto Ma lo posso mettere pure qui C'è sta l'alberello Che disturba Dover perire questa zona qua Ma il problema È che poi mi consuma Tutti quanti i materiali Rimango messo male Preferisco sistema la pesca Scusatemi Se al momento La city rimane un po' così Poco artistica E poco sistema da bene Ma capitemi Vai Cerchiamo di spostare Tutta la gente E adesso c'ho pure Gli spazi Per i nuovi edifici Che in realtà Dovrei addirittura Potenziare Oh E che fai Te ne privi È certo che Fai un bel potenziamento Con tutti gli elementi E già so Due spazi Posso fare Qualcos'altro Tipo tre spazi Mi servono i secchi Mi servono i secchi Dei vernici Ritorneranno molto utili Tutti quanti I vari elementi Molto bello Grande crom Fischiettino per lui E penso Prendo pure la cassetta Al momento E continuiamo a mandare Gente Vai Centro benessere Li posso accontentare tutti Abbiamo finito la city Che cosa meravigliosa Centro benessere Negozio Come minimo Tutti quanti mi chiedono Il centro benessere Che è già pieno E non ce li posso mandare Io spero di mandarvi tutti Bar sulla spiaggia Vediamo se riesco a mandarla Al negozio souvenir Bene Negozietto No facciamo prima Trattoria che c'ha più posti Questo lo mandiamo al cinema Questo alla trattoria Questo qua Al negozio alimentari Oliver Alla trattoria E il forzuto Alla trattoria Bene Abbiamo riempito tutto Eccala Subito Mi mancano Le tortine Le carote Chiedo l'aiuto Da casa Bene Qui posso servire Chiedo l'aiuto Perché Ho chiesto l'aiuto Regà Un botto De volte Diciamo che la barchetta Ma distrutto Posso soddisfare tutti Molto bene Al bed Altra roba Ottimo Se boffa tutto Mi stanno a finire praticamente tutto Ma non ci fate caso Mi ha fregato tutto il latte Le patate Lo zucchero Ti posso accontentare Gelatini per lui Pomodoro Me l'ha fregato tutto Maledetto Lamponi E more E berrettini Ho sistemato tutto Bella per la city Già mi hanno aiutato Grande bit Per quanto riguarda il resto Poi dopo ritorniamo Ah potrei prendere pure qualcuno Magari da mandare al bed Giusto Eccolo qua Ethan E vai subito al bed Un caffè Guardate raga Chill Molto semplice Lo ringrazio Se ritorno indietro Ma hanno scioppato Ho già preso anche altra roba Prendo tre atti Presi gli atti Grosso investimento per Grax Grandissimo Gli atti sono sempre difficilissimi Da trovare Sempre in problema In realtà adesso So carente dei mazzetti Magari se trovo Un bel per dieci De mazzetti Esulto Un sacco Ma De sicuro Non me li dà Bene quelle canne da zucchero Perfetto Possiamo andare a prendere questo Per quanto riguarda i maiali A sto punto Faccio un per due Così ho già La seconda Anzi addirittura La terza rinfornata Cose Bene obiettivo completato Con gli edifici Esperienza per noi E si va subito A ristartare Poi dopo l'eccesso Lo andiamo a vendere Questo lo posso fare Il miele non ce l'ho Ci portiamo avanti Con i piccanti E uno di cioccolata Let's go con Due biscottini Perché mi va Le pizze le ho tutte Tranne una La vado a fare Vado con un altro biscottino E ci metto pure Un pane integrale Di qua Tortine 3 3 4 3 Ho tutto Faccio un bel pasticcio De carne Faccio uno stufato Che sono quelli Che mi richiedono di più E una tortina di pancetta Le torte ci sto Tranne quelle con la panna E allora Facciamo un per due Più uno sformato Con feda Di qua Senza problemi Per due De piramide E buono anche il potenziamento Della barca Mi sembra Che arrivano col 20% in meno L'attiviamo subito Mentre c'ho Tom attivo Che purtroppo Sta fuori sincro Perché l'ho attivato prima Di registrare Abitino viola Facciamo i gambali E facciamo pure Un bel cuscinetto Di qua Mi hanno fregato tutto Il succo di pumarola Faccio doppia zuppa Magari se poi trovo Il succo di pomodoro Ne ristarto un'altra Grax sempre Mega problemi Ho quasi finito Tutti quanti Gelatini e la fragola Facciamo un per due Più uno di quelli normali Qua c'ho tutte le marmellate Tranne quella Ai lamponi Carichiamo di brutto Collanine per noi Posso fare Un bel per tre Assolutamente sì Fiori Già li ho messi Di qua La panna ce l'ho Faccio uno di questo Faccio un espresso Che ce ne ho poco In realtà devo fare la cioccolata calda Ma tanto ci mette poco Poi dopo risolvo Pomodoro arrosto per due E un hamburgerino Sul telaio Sto messo bene Ma faccio un bel per quattro Eh mi hanno consumato quasi tutto E un maglione Lo zucchero Come se piovesse E anche lo sciroppo Ce lo mettiamo Ci piazza un po' più zucchero Però stavolta Sucche pumarolle Se famo uno bello per tre Mentre di qua Con lo sciroppo ci siamo E ci faccio pure Un toffee Sistemato tutto La contrata l'abbiamo fatta Il derby Lo stiamo portando avanti In attimo Prendo le ricompense E buono quel bullone Oggi ragazzi Giornata tattica Di materiale di espansione Vado a vendere Tutto quanto l'eccesso La soia ce l'ho in eccesso Dovrei prendere pannotti E grano Ricordatemelo Con questo sistema Che sto utilizzando Cioè quando arriva a 5 Vendo Vendo 2 Velocissimo Ritorno a 3 C'ho sempre un minimo di 3 In store Popcorn piccanti Ne vendo 4 Poi posso vendere 2 zuppette Ci metto pure Le melette Caramellate Una volta Venduto un po' di roba Poi ritorno indietro Si va sulla pesca E vi faccio vedere Che andrò a pettinare Questo signorino qua Non posso prendere L'ultima rete Perché non ho fatto in tempo A produrla Ma non è un problema E si va con L'espansione Del salone Per le anatre 50.000 E costicchia Ah ecco Ho fatto l'errore Giusto ragazzi Potenziandolo Non posso mettere Altre anatre Ma va bene Quello rimane L'installo Non è un problema Rimettiamo subito Due redi Per le aragostine Costanti E ne rimettiamo Due in produzione Prendo tutte quante Le schette E si va con una pesca Molto molto tattica Cercando di prendere Più peso possibile De pesce Per arrivare A sbloccare L'obiettivo Quello globale Che sto già a 57 Con tutte ste zone Non è un problema Bisogna comunque Portare avanti anche il pesce Dex Ammazza questo quanto dire E quanto va piano Il cerchietto Ci ho messo una vita Ma quella enorme Ma che è una balena Oddio 13 kg Barbiglio gigante Ma che è Era una balena Regà Una balenottera 13 kg L'avete visto Tutti quanti insieme Non era preparato Ammazza che bestia Air corporalis Ci piace Vai Eschetta gold qua Anzi potrei anche gestirla Magari qua sotto L'eschetta gold Sulla nuova zona Quella più costosa Dammi un altro mostro In quel modo lì Dammi un essi Mai vista una cosa Del genere vi giuro Non so se vi è capitato Pure a voi Altro pesce Lozzo e lucio Che già abbiamo Quindi di sicuro Sul pesce Dex qualcosina Andremo A prendere Altre gemme Bellissime Per il nostro Video shoppata Dove andrò a potenziare Sicuramente L'edificio delle caramelle Che è Quello dei fiori Un altro lucio Che sfiga Tutte quante Le fornaci Di sicuro pure Il redificio Che ci serve Per mettere più roba Possibile Altra pescatina Occhio per questo Va molto lento E' un altro bestione Tira Grax Guarda che roba oggi Mamma mia Che battuta De pesca Il maculato blu Non è vero Ce l'avevamo già Niente di incredibile Vai con l'eschetta viola Tutte eschette particolari E se riesco Probabilmente si Oggi si arriva addirittura 90 kg Guarda che cerchietto piccolo So Sampei Oggi so Sampei Devo mettere la sigla De Sampei Ma non la posso mettere Perché c'è il copyright Tira Grax Non te lo lasciare scappare Wow Gemme Su gemme Persico del Nilo Addirittura Si va in Egitto Cosa sta succedendo oggi Sono strafortunato Guarda che cerchietto Pure questo Pescate oggi Purtroppo sto video uscirà poi Credo domenica Se non erro Insomma Poteva andare meglio Attenzione Quanto tira il pesce Altro pesciolozzo Questo è piccolino Ma è un Valencinesi Siamo a 98 kg Arriviamo a 100 kg E mi sa che questa è l'ultima eschetta Ed è l'eschetta verde Maronna regà Oggi robe folli eh Cioè meglio di così Non si può Solo pescate top Guardona non te l'anna Quanto tiri Te prego Fammi vedere che pesce Raga Fermi Fatemi vedere pesce Mai visti Pesci del genere In un solo video E' imprendibile ragazzi Guardate dove sto tirando Mi è scivolerdito Devi andare sul cerchietto Fratellino No vabbè Impossibile Impossibile Avevo finito lo spazio Vi giuro ragazzi Avevo finito lo spazio Serviva un telefono Sull'iPad Non hai Chissà quanta larghezza Rispetto a un 16 noni Che pesce era Regà Non lo so Ristarto tutte le schette Particolari E andiamo a vedere Buono regà Era pure torrato 13 kg Ammazza che bestia Bene le tre gemme Buono pure questo Argento Poteva annar pure meglio Vediamo se c'è Qualc'altra Lampeggiata Magari all'inizio Terpesce Dex Il luccio Quasi platinato Pure il maculato blu Da 4 kg E scusate se oggi ho fatto Una scorpacciata De gemme infinite Pesca ok Si torna indietro Vi faccio vedere L'evento globale Finalmente l'abbiamo sbloccato E siamo a metà Mancano tre giorni Speriamo di farcela Perché almeno sblocchiamo Qualche ricompensa E alla fine c'è da pure L'accetta Bono Un bel perzetta D'accetta Fiorellini messi E il resto c'è tutto per 4 Mi posso pure accontentare Devo solo prendere Erzucca e Pumarol Che non lo trovo Buone quelle carote Prendi Grax La carotina Poi l'eccesso Lo andiamo a vendere Mi serve subito Il grano E mi servono anche Le pannocchiette Che al momento Non vedo però Il pomodoro è top Bene regà Bene 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 Grossi pomodori Che ci servono appunto Per rifare il succhetto Pure i peperoncini Quasi quasi qualcosa Prendo Prendo questo sicuro Prendo questo E prendo pure le mele 20.000 di monete Mi sembra di aver fatto tutto Ristartato praticamente tutto Non vado a fare un giro Di bancarelle Perché al momento Non mi serve niente Ripeto Se non esclusivamente Un succo di pomodoro Per fare Una zuppetta di pomodoro Ma dato che ce sto Zuppetta dalla costa Perché ho preso Le codine Tutto alla grande Ragazzuoli Ve voglio bene Siete veramente Meravigliosi Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi Campanella E codice Crax Ovunque Quasi livello 53 Proverò a farlo in video Se riesco Ma considerando che parto Lunedì Per Parigi Quindi domani Sarà un po' difficile Da incastrare Ce provo Un bacio Ciao ciao